bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tante novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e le novità delle ultime 24 ore nel video di oggi parleremo ancora di stagione 3 con dei dettagli davvero molto interessanti che sono venuti fuori ma parleremo anche di party royale sì perché da oggi potrete ottenere il backpack gratuito prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi si parla del deltaplano di deadpool il dragacorn per chi non lo sapesse il deltaplano che ci è stato regalato qualche settimana fa con l'arrivo delle sfide di deadpool è stato momentaneamente disabilitato per quanto riguarda il competitive io ne avevo già parlato di questa cosa intanto per chi non se lo ricordasse il backpack è ovviamente questo qua che a parentesi mia è meraviglioso mi piace davvero tanto ma avevo accennato in live che c'era qualcosa che non andava molto bene con questo deltaplano e lo avevo proprio scoperto durante le massiccerisse a squadre che facevo praticamente è difficilissimo colpire un avversario che schiera questo deltaplano e che sta scendendo comunque che ti plana contro perché i movimenti del personaggio e i movimenti del deltaplano sono talmente strani e ondulati che non è praticamente possibile riuscire a laserarlo questa cosa si nota meno ma si nota anche con i deltaplani che noi surfiamo in poche parole mi viene in mente quello di nitroglicerina e ne arriveranno anche altri ad esempio anche quello di traviscott quindi per chi ancora non lo sapesse disabilitato e questa è la descrizione ufficiale verrà ovviamente sistemata l'animazione verrà reso un pochettino più fluida e lineare e ben presto lo potremo rivedere in game ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi si parla di party royal e ci sono tante cose da dire alcune le sapete alcune forse non le avete mai viste innanzitutto è la alle 3 di sabato mattina quindi alle 3 del mattino di sabato ci saranno i concerti che festeggeranno la premiere del party royal come vi avevo però già anticipato non dovete avere paura perché sarà possibile prendere le ali al neon semplicemente loggando sul party royal da sabato fino a lunedì quindi è veramente semplicissimo vi ricordo che ci saranno tre grandi artisti che si esibiranno sul palco uno non me lo ricordo mai l'altro è stivocchi e poi c'è dead mouse 5 che io ragazzi purtroppo non conosco come suanno però dovrebbe esserci anche il rebroadcast alle ore 2 pm eastern time voi andate dagli un'occhiata comunque domani ve lo spiegherò meglio in live che vi permetterà appunto di rivedere il concerto anche se non l'avete visto in diretta e per chi non lo sapesse per quanto riguarda il party royal sono state aggiunte anche delle emot ve le voglio far vedere mentre intanto le commento sotto questo è proprio un set di emot che verrà non si sa se verrà dato gratuitamente quando si entra nel party royal o se se o se bisognerà invece shopparlo nel negozio di fortnite ma quello che è certo è che saranno tutte emot che comprenderanno un unico pacchetto e devo dire che sono veramente molto comode e molto utili anche al di fuori del party royal perché ci sono appunto dei movimenti che potrebbero aiutare il giocatore se non avesse il microfono a interagire con altri compagni di squadra ad esempio come vedete il giocatore indica oppure fa di no con la testa oppure fa di sì con la testa mentre ce ne sono alcune un pochettino più simpatiche tipo questa dove si siede e si gode praticamente una buona dose di relax e invece questa dove invece va a salutare quindi un'altra cosa davvero molto interessante che ben presto arriverà nel battle royale e andiamo avanti a parlare di un altro argomento ragazzi wow 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 questa è più una figata che una news per chi non lo sapesse da qualche ora sta girando in rete una foto di di questa skin di fortnite dedicata star wars ora io vi direi kylo ren però probabilmente dico una stupidaggine che è in 8k guardate ragazzi che dettagli a questa skin sappiamo che il formato di compressione di youtube e di twitch ovviamente riducono tantissimo la qualità del gioco e questo è ovvio per avere appunto una fluidità di stream per non appesantire qualora ci guardaste con i dati mobili e non il wifi o comunque l'ethernet ma se fossero davvero così tutte le skin di fortnite in 8k wow ancora due secondi per vedere quanti dettagli e che meraviglia c'è dietro ogni skin un grande un grande lavoro di grafica davvero da apprezzare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi si parla anche di evento della stagione 3 sappiamo che il doomsday event sarà l'evento finale di questa season 2 sappiamo tanto e in realtà non sappiamo niente una di quelle cose che però che sappiamo è l'arrivo di questa skin che molto probabilmente potrebbe entrare a far parte del nostro armadietto qualora lascio passimo nello shop è una skin che all'inizio era stata confusa con uragano in realtà è molto diversa ci sono dei dettagli che non c'entrano niente l'armatura come vedete è fatta in maniera diversa ma questa skin è già presente nel game la troviamo ad esempio al pozzo a part a pezzi però la troviamo al pozzo e per quanto riguarda invece mida e il suo evento poi parleremo anche di questa cosa che voglio che voglio dire è per chi non lo avesse notato si stanno accendendo le luci della stanza dove è contenuta o dove arriverà poi la doomsday il doomsday weapon quindi l'arma del giorno del giudizio quello che noi sappiamo è che anche la lobby tra pochissimo cambierà e a questo punto immagino con la patch di settimana prossima la 12.60 che porterà veramente un casino di novità io mi aspetto di scaricare almeno 3 giga da pc per una roba del genere anche perché la patch 12.60 sarà quella che concluderà definitivamente la la serie di aggiornamenti della stagione 2 del capitolo 2 di fortnite come vi stavo dicendo ragazzi l'idea è che mida ha rubato il bastone di oro perché il bastone di oro può controllare il potere della tempesta vuole incalararlo nel doomsday weapon come vedete ha già preparato intorno all'agenzia i 5 6 strani oggetti e l'idea è che bisognerà fermarlo per evitare che la mappa venga distrutta da quella che è appunto chiamata arma di distruzione di massa insomma ragazzi tante tantissime novità anche per oggi per quanto riguarda fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video news mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao